Abbiamo definito un protocollo d'intesa con Città Metropolitana per cercare di dare una risposta alle sempre crescenti richieste di iscrizione al Liceo Vico. È un momento di grande soddisfazione perché siamo riusciti ad arrivare ad una risposta concreta che risponde a un'esigenza importante. Questo comunque è un frutto di un percorso che abbiamo portato avanti sia di collaborazione con i dirigenti ma anche con una grande sinergia con Città Metropolitana. Questo è un percorso che abbiamo iniziato e che sicuramente oltre che a rispondere a un'esigenza ci consentirà anche di valorizzare una scuola che è quella della scuola primaria Curiel e di un quartiere che è il quartier Lavagna a cui comunque vogliamo sempre dare maggiore attenzione.